Ciao ragazze e bentornate sul mio canale! Nel video di oggi torna un nuovo format che sapete che io adoro e amo tantissimo e cioè un haul di shopping fatto per i bimbi, in particolare in questo caso per il neonato Ho comprato delle cose carinissime dal sito di Chiavi che sapete che io adoro, compro sempre su Chiavi per i miei bambini ora era un po' che non facevo un ordine, in realtà ho preso poche cose perché mi servivano proprio e quindi sono andata a colpo sicuro e anche sul sito di Myoral ho approfittato dei saldi, proprio degli ultimissimi saldi dell'inverno 2022 e quindi anche lì secondo me mi sono giudicata dei belli affari e tra l'altro poi dovete aiutarmi a scegliere quale giacca tenere e quale rendere, vabbè vedremo dopo Quindi niente, se vi piace questo genere di video mi raccomando lasciatemi un like qua sotto e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, siamo sempre di più, sono molto contenta e niente, quindi appunto iscrivetevi se vi fa piacere, è semplicemente un modo per sostenere questo canale cioè il mio canale e permettermi quindi di registrare sempre più video Spero che questo shopping per i bimbi o comunque per il neonato vi piaccia Spero di potervi dare qualche ispirazione per fare shopping e magari, perché no, se non li conoscevate ancora conoscere questi brand, cioè Myoral e Chiavi che secondo me sono molto validi, molto belli e quindi se vi va date un po' un'occhiata ai loro siti, non è un video in collaborazione, è semplicemente una mia opinione personale quindi niente, spero che questo video possa esservi anche appunto utile ed ispirazione per fare shopping per i vostri bimbi Adesso quindi smetto di parlare, vi lascio le immagini dei capi e ci vediamo come al solito se vi va il prossimo sabato con un nuovo video, ciao! Ok ragazzi, direi che possiamo cominciare da Chiavi e ho già posizionato qui le due scarpine che ho preso per il neonato guardate quanto sono carine e ho preso queste scarpine qui verdi che sono diciamo verdone, un po' simile alle Vans secondo me sono di tela quindi primavera-estate secondo me come stagione ho scelto la taglia 9-12 mesi come vedete, esiste comunque anche la taglia da 0, da 3 e da 6 mesi vestono un pochino grosse devo dire, l'ho già aperte perché l'ho dovute provare comunque sono confezionate abbastanza bene nel senso che hanno qui il cartoncino per tenere la forma hanno dentro la carta e sono poi incelofanate così ve le spediscono in questo modo sono abbastanza morbide, hanno la suola morbida senza i pallini antiscivolo quindi non sono adeguate secondo me per i bambini che già camminano cioè vanno bene per bambini che devono ancora iniziare a camminare o magari che stanno facendo proprio i primi passi perché appunto la suola è molto molla e quindi sono un po' più così come dire delle scarpine di bellezza o più per non far prendere freddo ai piedi dei bambini e non lasciarli sempre con le calze invece l'altro paio ho preso questo scarponcino qui che è un pochino più come dire invernale e mi sapeva un pochino più di stivaletto questo qui della collaborazione di Chiavi con Disney Baby e anche queste le ho aperte vedete che sono fatte così come vi dicevo un po' simili a degli scarponcini o degli stivaletti hanno qui la faccetta di Topolino con scritto Mickey Mouse sono un pochino più invernali queste un po' più pesanti ah non vi ho detto i prezzi queste qui costavano non le ho prese in saldo forse sì non me lo ricordo queste costavano 8 euro e sono sempre taglia 9,12 e invece queste qui costavano 6 euro come al solito Chiavi ha dei prezzi assolutamente abbordabili e ha delle cosine secondo me sempre super carine alla moda soprattutto per i bambini quindi se non avete mai acquistato da Chiavi io vi consiglio di andare a dare un'occhiata al sito assolutamente e poi sempre da Chiavi ho preso questi due cappellini invernali che costavano 6 euro l'uno però credo che uno dei due forse quello blu ora non mi ricordo quale era in saldo e devo averlo pagato non mi ricordo vi lascio l'immagine qua di fianco anche questi mi piacevano tantissimo e ho scelto questo qua begetto e questo qua blu con il simbolo vi faccio vedere più da vicino del coniglio con scritto slowly e secondo me ricordano un pochino i cappellini quelli che abbiamo noi adulti della Carrat o comunque di marche un pochino così alternative e hanno il paro orecchie fatto così con il laccetto sono di un cotone molto spesso sulla parte esterna invece internamente sono foderati quindi sono cappellini assolutamente invernali con il pompon in cima come al solito Chiavi è abbastanza preciso con le taglie e c'è tutta la tabella quindi potete tranquillamente misurare la circonferenza della testa del bambino e prendere il cappello che più è adeguato io ho preso questi qua una taglia in più in realtà rispetto a quella che mi serviva così almeno li potrò utilizzare anche l'anno prossimo questo set che ora così sembra una roba in forme ma è formato da un cappellino una sciarpa e un paio di guanti sempre per il neonato e adesso ve lo tolgo dall'appendino così si capisce meglio comunque si vede già il prezzo costava 10 euro il tutto il set e forse era in saldo anche questo vabbè vi lascio l'immagine e ho preso la taglia 49 che corrisponde alla taglia del berrettino ok eccomi qui non avete idea ci ho messo 3 ore c'era pieno di gancetti gancettini da staccare comunque il set è questo qui quindi c'è un cappellino una sciarpa e un paio di guanti per il neonato anche questo l'ho comprato specificatamente della taglia che mi serve perché ho bisogno di andare in un posto freddo e quindi mi serviva un set molto pesante invernale e questo qui secondo me è super super bello super cute è molto morbido è fatto di pile l'unica cosa è che dovrò staccare tutte queste etichette gigantesche che ci sono tipo dentro un guantino quindi le dovrò tagliare assolutamente anche qui c'è l'etichetta molto grossa tra l'altro c'è anche però la possibilità di scrivere il nome questa è una cosa che apprezzo nei capi di abbigliamento per neonati soprattutto se i bimbi vanno all'asilo così perché in modo da non perderli e poi anche qui taglierò l'etichetta più grossa comunque il cappellino è così a forma di koala praticamente si può legare sotto il mento con il velcro in questo modo ha le orecchie super carine è tutto imbottito foderato all'esterno è super super morbido e questo secondo me tiene un caldo pazzesco ovviamente un po' più piccolo rispetto agli altri quindi penso di utilizzarlo solo quest'anno però è molto molto valido molto bello la sciarpetta è fatta così normalissima molto morbida non ne avevo assolutamente sciarpe adeguate per il neonato e i guantini sono fatti così non hanno il pollice sono guantini normali questo set io lo adoro ragazze lasciatemi un like se siete d'accordo con me e quindi niente da chiavi ho comprato queste cosine qui quindi due paia di scarpe due paia di cappellini e un set per l'inverno proprio lo so che siamo alla fine però mi servivano assolutamente da Maioral come vi dicevo già nell'introduzione del video ho comprato due giacche una delle due la manderò indietro perché effettivamente non me ne servono così tante le ho prese entrambe per scegliere un attimo provarle vedere qual è che si dice di più le mie esigenze voi vabbè fatemi sapere nei commenti qual è quella che vi piace di più così giusto per avere un'opinione però in generale secondo me Maioral è una marca fantastica io l'adoro vado sempre a vedere un pochino sul sito l'unica cosa che a mio parere personale i prezzi sono un pochino alti o comunque un po' più alti rispetto ai soliti brand in cui acquisto di solito quindi chiavi H&M Zara così è un pochino più elevato il prezzo però se ci andate nel periodo dei saldi sul sito o nei negozi rivenditori trovate sicuramente un sacco di offerte roba di qualità molto alta cioè la qualità si nota proprio le rifiniture i materiali cioè è tutto molto più elevata proprio come qualità e infatti i capi di abbigliamento come ad esempio le giacche se le voglio valide perché magari mi servono per occasioni appunto particolari per andare a freddi importanti preferisco prendere di maggiore qualità vabbè questa è una mia opinione comunque una cosa che faccio io ognuno assolutamente libera di fare come vuole allora la prima giacchetta è questo piumino qui imbottito assolutamente di piuma d'oca nella parte in fondo quindi in vita anche se è un po' più lungo quindi è una specie di cappotto poi alla fine anche l'elastico in modo da non far passare l'aria all'interno non so se riuscite a vedere è tutto foderato di pile quindi stracaldo i polsini anche qui sono con l'elastico in modo da non far passare l'aria sul davanti si chiude con i bottoni oltre alla cerniera come al solito quindi molto valido poi il cappuccio è così che credo esatto è rimovibile il cappuccio con la cerniera quindi potete anche togliere il cappuccio ed è un cappuccio imbottito normale quindi questo è un piumino classico vabbè qui c'è il logo del brand è un piumino classico che però è fatto di un materiale molto liscio quindi nel senso secondo me tiene anche il vento e la pioggia abbastanza bene sulla spalla da questo lato c'è di nuovo il logo del marchio quindi devo dire che anche al tatto proprio come consistenza si nota il materiale molto buono ho preso la taglia 9 che corrisponde ad un'altezza di 74 cm l'altra giacca è questa in questo caso l'ho presa rossa per cambiare un po' questa direi che è un pochino più sottile cioè sembra più una specie di kiwi imbottito anzi direi che assomiglia assolutamente in ogni caratteristica a un kiwi imbottito comunque all'interno c'è sempre un po' di piumino quindi sicuramente anche questo tiene caldo secondo me è più però per il vento la particolarità è che la cerniera quindi la chiusura è su un fianco quindi un po' più spostata lateralmente e sul davanti c'è questa taschina così una taschina normale da inserire le cose il cappuccio è felpato di pile e all'esterno è niente è tipo giacca vento anche questa cade un pochino lunga quindi una specie di cappottino il logo del marchio anche qui si trova sulla spalla qui dalla manica e dietro è normale così non lo so ragazzi io in realtà ho già scelto mi sa che per le esigenze che ho io devo andare molto a freddo terrò quella e manderò indietro questa qui però fatemi sapere nei commenti magari esteticamente secondo voi è più bella questa giacca qui può essere perché comunque è un po' diversa col taschino così però il bambino è piccolo quindi non è che se ne fa niente sinceramente boh forse tengo quella là vabbè fatemi sapere nei commenti cosa fareste voi poi già che c'ero e stavo acquistando su Myoral per prendere la giacca mi sono fatta trascinare anche per usufruire della spedizione gratuita e ho preso ho aggiunto all'ordine anche un set praticamente una maglioncino con un paio di pantaloni secondo me strafighi non è che era un set già fatto l'ho composto io guardando un po' le immagini dei bambini vestiti modelli diciamo sul sito mi piaceva tantissimo c'erano le taglie in saldo che mi servivano e ho preso questo maglioncino in taglia a nove mesi che quindi va dai nove mesi ai dodici mesi che secondo me anche questo è veramente figo fatto così tutto giallo ocra con il disegno della chitarra ha i due bottoncini qui sulla spalla e ho preso la taglia a nove mesi mentre invece i jeans sono questi ho preso la taglia in questo caso un po' più grossa ho preso la dodici mesi perché tutte le volte poi i jeans almeno i miei bambini vanno a stringere in pancia e quindi preferisco tenermi un pochino più larga di taglia i jeans sono così un lavaggio nero quindi un po' più sul colore scuro che si abbinano benissimo al maglioncino anche per quanto riguarda il fatto che invitano l'elastico di questo colore che secondo me si abbina bene hanno il cordoncino finto qui il marchio il logo qui e in fondo finiscono con un elastico alla caviglia sul retro invece sono fatti così e hanno di nuovo il logo del brand sul taschino questo set secondo me era molto molto carino quindi sono contenta di averlo preso e niente ragazzi quindi vi spero che questo shopping vi sia piaciuto sì non era un haul gigante volevo solo farvi vedere gli ultimi acquisti anche per farvi vedere un pochino il brand Myoral che non lo porto mai sul canale però in realtà è un brand che mi piace tantissimo sottolineo sempre che non è un video in collaborazione sono tutti acquisti che ho fatto io di mia spontanea volontà e niente quindi chiavi lo porto spesso lo conoscete ve ne parlo spesso e infatti mi ha dato soddisfazioni perché cercavo cappellini pesanti scarpe e lo trovate subito a prezzi imbattibili e qualità valida e però ho voluto un po' cambiare e farvi vedere che infatti Myoral secondo me è veramente top e niente ragazzi spero che lo shopping vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti quale giacca tenere e adesso vi saluto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto lasciatemi un like e ci vediamo il prossimo sabato in un nuovo video ciao 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 ciao